Ah, ancora? Bello là, ma quante cose avete portato qua? Grazie, e anche... Stanno una settimana qua, in seguito, finiti e da dieci giorni sono qua. Ci sono persone che lavorano in un modo incredibile. E, da Bellena è una di qua. Sì, adesso arriva Daniela, un'altra ragazza che non sta a Gagliate, sta a Novara. E quando c'è un problema, sono persone incredibili, che nessuno conosce, ma senza di loro non faremo molto, posso garantire. E infine, come dimenticarci della nostra Angela? Bene, e oltre a un punto a premiare, è un altro... Quando mi feste le truco ha vinto a Gagliate, ci sono un'altra ragazza che non è centrali... E le dano a Gagliate, come dimenticarci e da l'agrazione, ma senza di loro non faremo molto male. Grazie a tutti. 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 Entro i sueños. Porto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il sorriso. Grazie a tutti.